Buona domenica, amici e amiche, iniziamo il capitolo 18 del Vangelo di Luca. Gesù racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre, virgola, senza stancarsi mai, dice la traduzione italiana del primo versetto del capitolo 18 di Luca, ma io qui mi fermerei, mi fermerei perché quel senza stancarsi mai, nel testo originale in lingua greca, andrebbe tradotto letteralmente così. Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, virgola, senza incattivirsi, senza diventare cattivi. Io mi farei già questa domanda, non è che per caso lo scopo della preghiera, della nostra preghiera cristiana, è esattamente questo? Noi preghiamo, dobbiamo pregare sempre, per quale ragione? Per non incattivirci, per non diventare cattivi. Perché la preghiera è esattamente questo? Anche se Gesù ce la descrive con una parabola, dove troviamo sempre questo linguaggio delle parabole che Gesù utilizza, che è un linguaggio paradossale, a volte assurdo, molto provocatorio, ma qual è lo scopo della preghiera? È già chiarito nel primo versetto, potrebbe essere questo lo scopo della preghiera, il fatto che noi preghiamo per non diventare cattivi, noi preghiamo perché la preghiera è rimanere uniti a Cristo e uniti al Padre, un Dio di misericordia, un Dio di misericordia e che quindi ci permette di diventare noi misericordiosi come il Padre? Non è che la preghiera è questa possibilità che viene data alla mia vita di essere come una casa costruita sulla roccia e quindi una casa che è stabile e che può resistere anche alle situazioni avverse, faticose della vita come la congiuntura storica che stiamo attraversando, compreso anche questo drammatico caro bollette che tutto sommato però non è niente. Se paragoniamo la nostra situazione a ciò che stanno vivendo certi nostri fratelli e sorelle del genere umano che si trovano in luoghi, in stati, in contesti storico-geografici dove in questo preciso istante c'è la guerra, c'è la distruzione, c'è la miseria. E cosa significa pregare? Esco un po' anche dal dal testo che la liturgia ci propone, provo ad allargare il pensiero, l'orizzonte. Cosa vuol dire pregare in una prospettiva cristiana? Io prego per me o prego per tutti coloro che sono più deboli di me, più poveri di me, più fragili di me. Di per sé il Vangelo in questa domenica, la parabola che Gesù racconta ci mette in sintonia con una categoria di persone che in Israele e in tutti i testi biblici dal primo all'ultimo, questa categoria diventa simbolica per indicare le persone fragili, le persone deboli, le persone che rischiano di rimanere indifese perché non hanno nessuno che le difende. Lei è una vedova e noi sappiamo come nei testi biblici, in modo particolare, gli orfani e le vedove sono queste categorie del genere umano che vengono continuamente ripresentate perché il Dio di Israele è il Dio dei poveri e quindi lui è il padre degli orfani e il difensore delle vedove. Tra l'altro sembra, secondo qualcuno, che nel linguaggio biblico appunto la parola marito potesse significare anche questo dal punto di vista proprio del significato della parola a livello semantico. Marito significherebbe proprio sostegno, appoggio. Ma una vedova è senza sostegno. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno, quindi è un uomo le cui relazioni sono totalmente nel segno del male, verso Dio e verso gli uomini. In questa città c'era anche una vedova, quindi una persona misera, fragile, che andava da lui, andava ripetutamente e gli diceva fammi giustizia contro il mio avversario. È una dura comunque questa vedova e non è che implora, che supplica, che cerca di impietosire, no. Lei è categorica e anche molto audace, c'è una certa protervie in questa donna. Per un po' di tempo egli non volle ma poi disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente importunarmi. E il Signore soggiunse, ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, il giudice di ingiustizia, letteralmente. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui. Il giudice è giudice di ingiustizia. Dio, il Dio biblico, non è soltanto un Dio giudice, un giusto giudice, ma è un padre, è una madre, cioè è uno che ha una caratteristica addirittura superiore alla giustizia, è la misericordia, cioè le viscere materne. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Allora Dio ci farà giustizia, crediamoci, credeteci, bisogna crederci. Dio risponderà al nostro grido, ecco, è tutta la Bibbia che dall'Esodo in poi ci dice questo, che il grido dello schiavo, del disperato, del povero, dell'oppresso, giunge agli orecchi di Dio. Dio ti farà giustizia, ma il problema non è se Dio risponde alle nostre domande, il problema è se noi ci crediamo e se noi vogliamo proprio entrare nella prospettiva della fede. E cos'è la fede? Fede è egoismo? Fede è pensare che Dio risponde ai miei bisogni? Oppure la fede è credere in un Dio, affidarmi in un Dio che ama me, ma che non è soltanto padre mio. Noi nella preghiera diciamo padre nostro e allora la fede non è anche un sentimento di fraternità? Non è anche un sentirmi dalla parte degli orfani e delle vedove, di coloro che in questo momento hanno bisogno di accoglienza, di protezione, di rifugio, di asilo politico. Avere fede non è essere dalla parte di Dio e quindi dalla parte del povero? Aver fede non significa entrare in una prospettiva di misericordia e quindi di amore? Pensiamoci e lasciamo che il dono che Dio ci fa nella preghiera trasformi la nostra vita e non ci faccia diventare cattivi, non ci faccia diventare egoisti. Qual è il dono che Dio ci dà nella preghiera? Lo dice San Luca in un altro passo. Pregate perché certamente Dio vi concederà lo Spirito Santo, l'unico regalo di cui la mia vita ha bisogno perché la mia vita sia vita secondo lo Spirito c'è una vita bella, gustosa, saporita perché ispirata dall'amore. Buona domenica!